snobbato dagli agricoltori dell'europa occidentale che l'hanno considerato per anni la dacia dei trattori belarus ha sempre riscosso invece forti consensi nei paesi del sud america dell'africa del sud est asiatico e dell'europa orientale fino ad arrivare a detenere una quota pari all'otto per cento del mercato mondiale di trattori convenzionali con un'offerta variegata di tutti i mezzi agricoli hobbistici da pieno campo e forestali che spaziano dai 12 ai 400 cavalli e che si articolano in più di 80 modelli nei piani della minsk tractor works il gruppo bielorusso a cui fa capo il marchio belarus c'è quello di espandersi anche nei mercati del vecchio continente e se tradizionalmente l'offerta trattoristica targata belarus ha trovato il suo principale punto di forza nel connubio tra semplicità e affidabilità a prezzi estremamente bassi ecco che negli ultimi anni la filosofia progettuale cerca di soddisfare le richieste di un'utenza senza dubbio più esigente sul fronte di tecnologia comfort e design e allora andiamo a scoprire alcuni dei modelli più significativi di belarus a partire dalla serie 800 trattori di classe utility tra i più diffusi del marchio e utilizzati in pieno campo o in aziende medio piccole costruiti all'insegna della semplicità hanno motori da 4 cilindri e 4,7 litri disponibili in doppia taratura da 81 88 cavalli il cambio è meccanico da 18 rapporti avanti 4 retro mentre l'idraulica è da 45 litri al minuto il sollevatore posteriore ha portata da 3.200 kg mentre il peso operativo parte dalle 3,6 tonnellate salendo verso la classe di trattori pesanti con frazionamento a 6 cilindri si passa ai serie 2000 sono trattori da pieno campo su grandi coltivazioni anche in configurazione a ruote gemellate una sola la potenza disponibile da 212 cavalli mentre la trasmissione è solamente meccanica con un cambio 24 marce avanti e 12 retro impianto elettroidraulico da 55 litri al minuto e sollevatore posteriore con capacità da 6.500 kg belarus ha in gamma anche tanti mezzi operativi per l'agri forestale tra cui il TL 120 dotato di gabbia di sicurezza per la cabina ROPS FOPS si tratta di un portatrezzi a quattro ruote motrici da 122 cavalli derivato dall'SH 406 da cui è stato eliminato il sollevatore anteriore mentre quello posteriore e il sistema idraulico trattoristico rimangono inalterati trattoristici e off-road anche gli pneumatici per utilizzo intensivo e off-road ma come abbiamo anticipato belarus sta sperimentando anche altre vie alternative di sviluppo tecnologico soprattutto nella direzione della transazione energetica è il caso del primo trattore ibrido prodotto da belarus il modello 3023 il trattore ha di serie un motore da 303 cavalli un deutz 7 litri abbinato all'elettrico la presa di forza frontale viene azionata elettronicamente e la rete a corrente continua in alta tensione interna può cedere fino a 172 kilowatt di potenza elettrica e chiudiamo questa breve panoramica con la visione di futuro di belarus ovvero il modello a3523 il prototipo di trattore autonomo senza cabina c'è infatti un sistema intelligente che controlla i movimenti del mezzo basandosi sui dati forniti da gps telecamere sensori collegati a una centralina la trasmissione dei dati avviene mediante 5g mentre la guida automatica è di topcom la 3523 è un sistema di propulsione ibrido basato su un cammins da 350 cavalli a gasolio e un generatore elettrico che fornisce energia sia alla trasmissione a variazione continua sia alle eventuali attrezzature di tipo elettrico così equipaggiato la 3523 i presenta a detta del costruttore bielorusso consumi di carburante ridotti meno 7 per cento nel ciclo di lavoro in campo e un 12 per cento nel trasporto su strada rispetto a trattori simili con trasmissione meccanica nonché emissioni inquinanti inferiori di ben 10 volte